Martedì 15 settembre, Beata Vergine addolorata. È il 259esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 107 al termine. Il sole sorge alle 6.49 e tramonta alle 19.21. La luna si leva alle 3.53 e tramonta alle 18.45. L'imperatore Federico Barbarossa stipula un trattato con Venezia. In esso vengono rinnovati e confermati tutti i patti stipulati coi precedenti imperatori, tanto circa i confini quanto riferendosi ai boschi, alle vigne e a ogni altro possedimento veneziano nelle terre imperiali. Tra l'altro vengono altresì proibiti ogni insulto, molestia e l'appropriarsi da parte dei sudditi dell'impero di qualsiasi cosa appartenga a navi veneziane che facessero un naufragio. Le previsioni per domani. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sui monti nel pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso o nuvoloso con qualche pioggia. Temperature generalmente senza variazioni di rilievo. Sui monti valori diurni in calo.